Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del Dipartimento di Intellectual Property and Technology allo studio legale di L.A. Piper e oggi ho il piacere di avere come ospite Guido Noto Ladiega, Associate Professor of Intellectual Property and Privacy Law all'Università di Stirling in Scozia. Guido, benvenuto e grazie di aver accettato il mio invito. Grazie mille Giulio, sono molto contento di essere qua. Guido, io ho detto solo uno dei titoli, delle cariche che hai, però ci dici un pochino più di te, Stirling, per chi non lo sapesse, è vicino a Glasgow, cioè me l'hai detto due minuti fa. Esattamente, sì. La cosa principale che faccio è questo ruolo a Stirling, dove fra l'altro dirigo lo Scottish Law Innovation Network e al momento anche un progetto internazionale che si chiama From Smart Technologies to Smart Laws, che è cofinanziato dai corrispondenti, diciamo, inglese e tedesco del CNR. In generale mi occupo di diritto alle nuove tecnologie con enfasi su diritto d'autore, brevetti, privacy e tutela del consumatore. Come molti della mia generazione sono un giurista internazionale, nel senso che ho lasciato Palermo nel 2014 per Londra, poi Newcastle, da tre anni sono in Scozia, ma ho anche lavorato in Brasile, Russia, Germania, Svizzera, Stati Uniti. Sono stato un po' da tutte le parti, però rimango sempre molto legato ovviamente alla Sicilia e all'Italia e in parallelo rispetto alla posizione scozzese e al ruolo scozzese ho anche ruolo all'interno della Commissione Europea, del gruppo di esperti della Commissione Europea su intelligenza artificiale e istruzione. Sono anche il Global Law Professor all'Università del Connecticut e sono anche legato a Torino perché sono un fellow del centro NEXA su internet e società, quindi tante cose in giro per il mondo. Mi fa venire in mente che la fuga dei cervelli dall'Italia, dai, prima o poi tornerai. Sì, lo spero. Guido, sullo sfondo vediamo il libro che è anche un po' la scusa per la quale siamo qui a chiacchierare, eccolo, Internet of Things and Law, che è un libro che tu hai scritto, in cui dai una visione molto interessante dell'IoT, sai che l'IoT è uno dei miei pallini, ho creato anche un'associazione IoT Italy per la crescita dell'IoT in Italia con degli amici, però la cosa, partendo dall'inizio, tu hai una visione particolare anche del concetto di IoT, ce la spieghi un attimino? Sì, sì, molto volentieri e poi mi fa particolarmente piacere parlarne con te, appunto, perché in Italia sei il principale esperto, secondo me, in materia dei profili giuridici, dell'Internet delle cose, quindi mi fa piacere vedere un po' se le idee che propongo nel libro hanno un qualche senso. Chiaramente come giuristi vogliamo sempre partire da definizioni per capire di che cosa stiamo parlando. Nel campo dell'IoT non c'è una definizione accettata, per quanto molto recentemente ci siano dei tentativi da parte del legislatore europeo, nel Data Act in particolare, di dare qualche definizione. La definizione che io propongo nel mio libro è che si tratti di un'amalgama di hardware, software, contenuti digitali, servizi e dati, dotato di interconnettività, sensori, attuatori e interfacce col mondo materiale. Quindi gli elementi cruciali da tenere in mente per capire l'IoT, secondo me, sono innanzitutto la materialità, quindi non parliamo più di software, di dati, eccetera, ma parliamo di cose fisiche, di dispositivi, di infrastrutture, eccetera. Un altro elemento è l'interconnettività, quindi non soltanto il fatto che il dispositivo sia connesso a Internet, ma che sia interconnesso ad altri dispositivi. La presenza di sensori è chiaramente forse l'aspetto più noto dell'Internet delle cose, perché la funzione del sensore appunto è quella di raccogliere dati sulla realtà circostante e trasformarli in flussi, diciamo, di codice binario. Una cosa, secondo me, sulla quale c'è meno attenzione è l'altro aspetto, non soltanto quello di raccogliere informazioni, ma quello di utilizzare quelle informazioni per agire sul mondo, è quello che tecnicamente chiamiamo gli attuatori. E in sostanza, secondo me, è molto importante, qualche volta sfugge proprio questo aspetto della commissione quasi inestricabile fra diversi aspetti, appunto hardware, software, contenuti, servizi, dati, eccetera, che è quello che chiamo rimaterializzazione. Cioè per cento anni ormai i giuristi hanno provato a capire come le regole giuridiche scritte per la realtà fisica si applichino ad un mondo in cui tutto è smaterializzato, tokenizzato, eccetera, ma con le cose abbiamo il problema opposto, capire come invece regole scritte per il mondo immateriale si possono applicare a un mondo che non è più né immateriale né immateriale, ma è entrambe le cose allo stesso momento. Entrambe le cose allo stesso momento perché ovviamente tu vedi l'oggetto materiale, ma forse quello che non vedi è tutta la parte software e le comunicazioni di dati che ci sono dietro. E forse questa area grigia è il motivo che nel libro stesso ti porta a dire che forse la contrattualistica tradizionale non sia facilmente adattabile al contesto dell'IoT, dove di fatto io ho una serie di diversi attori e vedo soltanto l'ultimo, vedo quello che mi vende l'oggetto praticamente, no? Esatto, esatto. Il problema della contrattualistica è un problema molto serio che mi ha spinto dal punto di vista metodologico a cercare di analizzare proprio il testo di tutti quei termini e condizioni, privacy policy, licenze, eccetera, tutti quei contratti, se vogliamo, che accompagnano il principale probabilmente dei dispositivi dell'IoT che è Ecol e Alexa, eccetera, i dispositivi, gli assistenti virtuali di Amazon. Quello che un po' mi ha scioccato, perché sinceramente non me l'aspettavo, è che tutte le volte che tu interagisci con Alexa e gli chiedi non so che ore sono, stai concludendo 246 contratti con Amazon. Tutti quei contratti, appunto, termini e condizioni, eccetera, che nessuno legge perché pensiamo che non abbiano nessun tipo di rilevanza e invece sono molto importanti. Una delle cose che ho fatto è andare a misurare, per esempio, il coefficiente di leggibilità di questi termini e condizioni, termini d'uso, privacy policy, eccetera, e quello che ho trovato è che sono talmente illegibili questi documenti che è necessaria una laurea in giurisprudenza per cominciare a capirli, a volte neanche quella. Non soltanto sono tantissimi, 246, e sono illegibili, ma sono estremamente difficili da trovare. Io ho passato mesi e mesi per cercarli tutti e sono molto lunghi. Ognuno di questi documenti, anche prendendo soltanto i contratti principali di Alexa, quindi una ventina di contratti, ti richiedono almeno 20 ore per leggerli. Quindi, in teoria, tutte le volte che tu chiedi a Alexa che ore sono, dovresti passare 20 ore a leggere tutti questi contratti. È quello che nel libro chiamo ginepraio contrattuale o contractual quagmire. In inglese, che sembra un problema di forma, ma è anche un problema di sostanza, perché, come dicevi tu, con chi è la controparte? Quali sono tutte queste centinaia di società con le quali entriamo in contratti? Perché non è, diciamo, concludiamo, contratti non è soltanto Amazon, sono anche tutti gli affiliates, ma non sappiamo chi siano questi affiliates. E ovviamente, giuridicamente, da avvocati, giuristi, vogliamo sapere un po', per esempio, se qualcosa va storto, a chi dobbiamo fare causa, non si sa. E poi alcune di queste, delle clausole di questi contratti, sono molto problematici, non soltanto perché ci sono problemi di condivisione dei dati con terze parti, ma anche ci sono problemi di, per esempio, di controllo sul dispositivo. Posso fare un esempio, se abbiamo il tempo, il fatto che in uno dei prime video times of use ci dice che i contenuti digitali che voi acquistate potrebbero diventare non più disponibili e Amazon non sarà responsabile per questa perdita. Quindi, in teoria, noi compriamo qualcosa, compriamo in questo caso dei contenuti, perché appunto c'è la parola compravendita, quindi in teoria siamo proprietari, però, allo stesso tempo, Amazon ci dice che a un certo punto possono decidere di renderli non più disponibili e nessuno sarà responsabile per questa cosa. E questo è, diciamo, contrario all'essenza stessa del concetto di diritto di proprietà. Secondo me, in qualche modo, la nuova normativa sui consumatori con l'espansione ai beni digitali più specifica ha cercato di coprire questa falla perché la garanzia ora la fornisce evidentemente il venditore, ma anche il venditore di beni digitali. Mi fa pensare che la stessa problematica che è più menzionato rispetto ad IoT, si pone forse in modo ancora più amplificato nell'ottica dell'intelligenza artificiale dove c'è l'ulteriore elemento della possibile libera arbitrio dell'intelligenza artificiale, fermo restando che anche l'EI dietro di sé ha una serie di tecnologie che hanno diversi produttori e quindi quando qualcosa va storto è difficile puntare il dito e la posizione sbrigativa ma forse è l'unica possibile in un contesto come questo del legislatore è che treva a prendere con il venditore. Ora, all'IoT viene contestato anche il cosiddetto effetto Big Brother e tu sei esperto anche di privacy e quindi questo effetto di monitoraggio della nostra vita ma allo stesso tempo questo monitoraggio dei dati viene messo a rischio ora con l'aumento dei rischi cyber e mi viene in mente che il Cyber Resilience Act proprio specifico rispetto ai prodotti connessi e vuole proteggere gli individui rispetto ai rischi di un contesto connesso. Ora, secondo te come riusciamo a bilanciare l'esigenza di prodotti utili perché tu hai parlato di questi speaker nella mia casa ce ne ho tre o quattro e li trovo utili avere la musica avere informazioni avere le news costano poco e sono utili e l'esigenza della privacy evidentemente la vogliamo e sicurezza anche Cyber la vogliamo bilanciare. Qual è la tua posizione? Ci troviamo ancora in una fase transitoria e questi valori non si sono ancora assestati? Ah, è difficile come domanda però proverò provo a rispondere diciamo chiaramente ormai penso che nessuno possa negare che l'intero l'intera infrastruttura dell'internet delle cose costituisce una sorta di 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 network della della sorveglianza ubiquitaria e su questo non c'è non c'è alcun dubbio dal punto di vista giuridico uno dei problemi che che l'IoT appunto pone è che in qualche modo ti richiede di rivisitare determinate dicotomie determinati binari che sono sottesi alle regole attuali quindi la dicotomia fra bene e servizio fra dato personale e dato anonimo perché dati che in altri contesti avremmo ritenuti anonimi grazie all'interno delle cose li possiamo ricombinare diventano personali ma anche diciamo il bilanciamento fra sicurezza e cyber security non il bilanciamento la dicotomia fra sicurezza e cyber security cioè tradizionalmente cosa c'era? parlavamo di sicurezza si pensava non so l'attentato terroristico parlavamo di cyber security si pensava all'hacker che magari ti aveva accesso ai dati bancari in realtà nell'internet delle cose appunto non c'è più questo binario per cui se pensiamo ad un hacker che ha accesso ad una stazione di servizio smart una stazione di servizio interconnessa e tramite questo controllo remoto della stazione la fa esplodere chiaramente è quello un problema di sicurezza o di cyber security quindi secondo me il problema principale dal punto di vista giuridico appunto è come si possano se si possano scrivere delle regole giuridiche che non siano più basate su questi binari e su queste dicotomie quello è la cyber security è un problema veramente molto molto grave molto pressante so che appunto te ne sei occupato te ne sei occupato molto probabilmente il problema principale il cosiddetto distributed denial of service quindi l'idea che gli hacker o diciamo altro tipo di soggetti malintenzionati possano avere ottenere controllo da remoto di tutti i vostri dispositivi miei tuoi eccetera centinaia migliaia e utilizzare tutti questi dispositivi di fatto per attaccare l'internet o attaccare determinati siti eccetera e disconnetterli e questo è un problema soprattutto se pensiamo al settore dei dispositivi medici connessi cosa succede se il mio dispositivo medico diventa disconnesso il cyber resilience act che hai menzionato e di cui ti sei occupato recentemente sicuramente è un passo è un passo in avanti con l'idea della sicurezza by design con l'idea degli obblighi che coprono l'intero ciclo di vita del prodotto sicuramente molto molto importanti ma secondo me il diritto da solo non basta appunto per questa quest'idea del bilanciamento come dicevi tu fra privacy cyber security ma anche utilità non è qualcosa che secondo me il diritto in sé per sé può rispetto al quale può produrre una soluzione si tratta più che altro di trovare un discorso pubblico dove diciamo i cittadini i consumatori ottengono molta più consapevolezza e al tempo stesso abbiamo magari un enforcement pubblico e privato delle regole un poco più serio e che sia consapevole ripeto di questi binari di cui ho parlato prima e anche delle situazioni del ginepraio contrattuale di queste reti di contratti e reti di dispositivi di tutti i problemi che ne seguono insomma super interessante per concludere Guido come vedi l'evoluzione dell'IoT tutti contano le migliaia e milioni di sensori che ci circonderanno sempre di più e questo secondo me è facile pensare che il numero aumenterà sempre di più ma quello che aumenterà è anche la consapevolezza del valore dei propri dati la consapevolezza dei rischi dei propri dati la consapevolezza che la fiducia nel fornitore è un valore che che va al che vale di più del prezzo più conveniente del prodotto ecco come lo vedi come vedi i prossimi 3-4 anni perché nell'innovazione non si può parlare più di decenni sì 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 spero spero che tu abbia ragione innanzitutto rispetto alla crescita dell'IoT ormai è inarrestabile ed è un dato di fatto che smart diventerà la regola e diciamo non smart analogico eccetera l'eccezione quindi tutti i dispositivi anche quelli per i quali non ci sarebbe bisogno diciamo che fossero smart diventeranno smart e questo pro e contro allo stesso allo stesso tempo secondo me questo accadrà non soltanto per una sorta di determinismo diciamo tecnologico ma perché una serie di fattori stanno in qualche modo convergendo quindi chiaramente parliamo di connettività sempre sempre più veloce non soltanto 5G ma reti wireless a bassa potenza ma anche la computazione cambia quindi computazione sempre più potente di tipo quantistico è il cosiddetto edge computing o elaborazione al margine appunto che ci consente questa elaborazione dei dati che è vicino a dove i dati vengono vengono gerati quindi la convergenza fra tutte queste tecnologie e cambiamenti secondo me farà sì che l'IoT diventerà assolutamente inarrestabile e si intreccerà sempre di più con non la moda del momento ma sicuramente i trend altri tipi di trend come chiaramente il metaverso per cui i gemelli digitali il digital twin del metaverso sempre di più saranno utilizzeranno i dati dell'IoT al tempo stesso ci saranno degli ostacoli ostacoli di natura tecnica per esempio parliamo della scarsità dei chip è impossibile trovare i chip necessari per l'IoT e questo esatto porterà ad un rallentamento della crescita dell'IoT credo del 15% sino al 2024 15% annuale ma problemi anche dal punto di vista giuridico pensiamo alla standardizzazione prevetti essenziali responsabilità da prodotti difettosi di cui ci stiamo occupando spazi europei dei dati accesso e riuso dei dati quindi forse si arriverà a un momento in cui non si parlerà soltanto dell'IoT ma forse anche di un IoT non lo so sicuramente bisognerebbe parlarne almeno non sto dicendo sia necessariamente la soluzione giusto migliore ma parliamone e infine come vedo i prossimi anni vedo sempre di più una tensione fra approcci e sistemi proprietari all'IoT e approcci invece molto più aperti ed inclusivi e secondo me l'idea c'è un momento storico in cui viviamo in cui l'idea di sostenibilità di giustizia climatica eccetera diventano sempre più importanti farà sì che dovremo ci sarà sempre più pressione per avere accesso a quelle grandi quantità di dati che l'IoT produce quindi questo secondo me porterà una maggiore pressione verso l'apertura e in qualche modo vediamo già e questo mi dà molta fiducia molti movimenti di cittadini movimenti dal basso di resistenza collettiva per esempio nel campo del diritto alla riparazione del right to repair movement centinaia di migliaia di cittadini in giro per il mondo che si organizzano appunto per far sì che queste società dell'IoT ci diano o ci restituiscano il diritto a riparare i nostri i nostri dispositivi quindi forse non so forse un po' estremo ma mi piace immaginare l'idea di un futuro in cui allo stesso modo in cui si occupa un teatro dismesso o una fabbrica dismessa si possa in qualche modo occupy l'IoT affascinante allora ricordiamo a tutti il tuo libro Internet of Things and Law che non è soltanto un libro di diritto ma è un libro da visionario del diritto se mi permetti grazie mille Guido e spero che tanti vi trattano il tuo libro e alla prossima grazie grazie a tutti grazie a tutti